Qualcosa so, qualcosa so... No, no, qualcosa so mi conto, buongiorno! Sono qua, sono un monte in alto e così... Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Piacere, Max! E dove andiamo? Andiamo... Andiamo a Barcola, dai che tutti vedremo com'è che... che sarà... l'organizzazione... Vedi, cazzo... Qualcosa l'ha fatto? Prego, prego... Ciao! Carissimo! Ciao! Ho visto che ti aveva risposto? Non ti ho mai risposto! Non ti ho mai risposto! Chi è questo singano qua? Cosa si vede qua, scusè? No, se venivo qua a vedere se stiamo lavorando... Ah, ecco... Sì, sì, c'è! Sono per il culo a tutta forza! Si, quello che mi piace, mi piace... Mario è la responsabile dell'iscrizione di Barcolana, quindi Elas è la donna dei 2700 iscritti! Dai! Insomma, veramente! Hai voluto tu il limite, hai detto basta, non ce la faccio! Ma non la diciamo a casa! Adesso Leila si iscrive alla Barcolana! Questo anno lei era in barca, in crociera, in Croazia, e la vedeva alle barche e le diceva quella si è iscritto già, quell'altra era l'anno scorso alla Barcolana! No, io non so... Quest'anno lei... Ma ci sarà anche lei? Dico, io e tante altre ragazze e loro! Dico, veniamo! Quindi, quello che volevo mostrarvi è, prima dell'altro anno che è diventato famoso il manifesto dell'Abramovic, quale era il più importante? Se facevi su Google il manifesto Barcolana cosa veniva fuori secondo voi? Quale secondo voi? Una foto che ha fatto il nostro grande fotografo Massimo Cettin, che si andava in pescheria e comprava un tonno e che taglia la coda del tonno e che beccava... e che taglia una mula e che taglia una mula, e che ha messa distirata... Quale è il problema? Che arriva in generale, in conferenza stampa e che aveva mostrato questa cosa e il fotomontaggio qua non era venuto proprio tanto bene e quindi sostanzialmente il manifesto si sta censurando perché si vedeva il cul della sirena Questo sei Ivan Pivaz che sei da anni il primo iscritto alla Barcolana e ogni anno le manda una cartolina con l'augurio questo anno del buon 2019 E come fa che si chivesse per primo? Il Cori è qua come un matto Il Cori è il 25, se vieni qua è il 25 alle 9 e lui sei qua con una bottiglia di malvasia e sei iscrivito Un anno, non vi dico, si arriva un matto della Nuova Zelanda e pretendeva di essere lui il primo Cioè quell'altro si andrà fuori dai testa Pivaz si andrà fuori dai testa, lo va buttare per terra e si è iscritto per primo Grazie